ci siamo appena spostati siamo arrivati in una zona dove ci sono delle belle marcature prima cala pochi secondi il pesce ha mangiato sembra una tecnica facile ma vi garantisco che non lo è tanti pescatori qua in giro non stanno perdendo niente davvero come teniamo l'esca in acqua e la sensibilità con quale ricerchiamo proprio la tocca e la ferrata delorata è fondamentale vedete qua sull'ecoscandaglio in bassa frequenza le marcature dei pesci che abbiamo qua sotto un raccolto indietro e Grazie a tutti. Grazie a tutti.